Cannes non è solo festival del cinema, è una deliziosa cittadina in cui godersi la vita in qualsiasi momento, anche solo per un weekend e anche fuori stagione. Per scoprirla si parte dal lungomare chiamato la Croisette, su cui si affacciano l'usso hotel, boutique di alta moda e il Pali de Festival. Si sale poi nella città vecchia, il Suchet, con i suoi caratteristici piccoletti, la torre medievale del castello adiacente alla chiesa di Notre-Dame de l'Esperance e una vista mozzafiato sul golfo. Imperdibile poi una tappa al mercato di Forviglie, un piacere per gli occhi e per il palato. Chi vuole concedersi un soggiorno da sogno o per notare negli storici hotel, come Barriere Le Majestic, in un ambiente elegante ma accogliente. E concedersi cene e pranzi indimenticabili in uno dei suoi ristoranti. Au revoir canne e vive la France! Grazie a tutti!